Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. La vita di musicista è come questo, come dire, in francese, grazie alla mia fisarmonica. Io ho iniziato a 5 anni della mia età la fisarmonica perché mio padre era fisarmonicista, un ottimo professore, e ho avuto la voglia di fare questo, la musica e la fisarmonica anche. E oggi ho 73, fino a dicembre, e fa più di 50 anni che fa musica. Ma per me la musica è soprattutto una medicina. Ho bisogno di questo, come di mangiare, di dormire e tutto vivere. Per me è soprattutto una comunione con un pubblico. Io ogni sera faccio un programma differente, ho più di 50 brani che posso suonare, ma dipende un po' dall'acoustique, anche dall'ambiente. Questo teatro è veramente carino, il Fognico che arriva, Camilo, è veramente famoso. Abbiamo fatto il, come dire, il sound check, come si dice, abbiamo preso 10 minuti, era ottimo. Penso che sarà una, non possiamo dire prima, ma io sento che sarà una bella serata. Grazie.